Fino ad ora abbiamo parlato dell'inquadramento della patologia da Covid-19, abbiamo parlato della terapia, abbiamo parlato della prevenzione, ma la medicina tradizionale cinese e in particolare la sua farmacologia possono essere estremamente utili anche nel periodo della convalescenza da Covid-19, e cioè quando la malattia risulta dal punto di vista, come dire, clinico guarita, ma in realtà ci sono degli esiti. Quali possono essere gli esiti? Numerosi, quelli più frequenti, l'astenia, la presenza di quello che in medicina cinese si chiama deficit di C e di Yin di polmone, la tosse secca oppure in alcuni altri casi una tosse irritativa e produttiva. Che cosa si può fare attraverso la farmacologia cinese e la medicina tradizionale cinese in questi casi? Si può fare molto perché la medicina cinese ha a disposizione alcune ricette che possono essere utilizzate proprio per nutrire lo Yin del polmone e per tonificare il C di polmone. La prima che prendiamo in considerazione è lo Shashen Mai Tun Tang, e cioè il decotto di glennia e opiopogon. Vediamo qui la formula Shashen, radix glennia, e poi Maimantung, la radice dell'opiopogon japonicus, e poi Yuju, il rizoma del poligonatum moderatum, Tien Wafen, la radice del tricosantes, Sanghiella, foglie del gelso, Pae Bien Do, il seme del Lab Lab, e da ultimo Kansao, la radice della liquirizia uralensis. Questa ricetta risale al Wenbing Tiao Bien, la differenziazione sistematica delle patologie febbrili scritta e pubblicata da Wu Tang nel 1798, quindi stiamo parlando di 222 anni or sono. Vediamo questa ricetta così come compare all'interno del testo farmacologia cinese. Vediamo che i suoi ingredienti sono quelli che abbiamo citato e che la sua caratteristica è quella di nutrire lo yin di polmone e stomaco e di promuovere la secrezione dei liquidi organici. Questo è il compito fondamentale di questa ricetta, dunque sarà particolarmente utile in quei pazienti che presentano tosse secca, che presentano secchezza buccale, che presentano secchezza faringea e che presentano sintomi a livello gastrico e contemporaneamente soprattutto a livello respiratorio. I rimedi principali li vediamo in questa immagine. A sinistra Shashen, la radice della Glenia Litoralis. A destra Maimantung, la radice dell'Obiopogon Giapponicus e a destra in basso Yuju, il rizoma del Poligonatum Odoratum. I rimedi Shashen e Maimantung sono dei tonici dello yin di polmone e rene e dunque sono capaci di promuovere la produzione dei liquidi organici. Anche Yuju, il rizoma del Poligonatum Odoratum, è un tonico dello yin che esercita azioni sovrapponibili a quelle dei due farmaci precedenti. Mentre invece in quest'altra slide vediamo gli altri prodotti che sono i ministri di questa ricetta. Sanghie a sinistra, la foglia del genzo e poi Tienoafen, la radice del Tricosantes Chirolovi in alto a destra e poi Paepiendou, il semen del Dolicoris, Dolicoris Lablab in basso a sinistra. Sono tutti farmaci che sono utili per controllare i fenomeni infiammatori e per calmare i segni di calore. A questi rimedi si aggiunge Kansau, la Liquirizia, la Glicituriza Uralensis che ha un'azione armonizzante nei confronti della intera ricetta. Dunque questa ricetta è utilizzata per pazienti che presentano in particolare secchezza delle mucose a livello respiratorio, tosse secca e poi ovviamente anche secchezza buccale, secchezza faringea. Abbiamo un'altra ricetta estremamente importante che si chiamava Shang Mai San. Lo Shang Mai San letteralmente significa la polvere per produrre il polso. La vediamo qui nella slide così come compare nel testo farmacologia cinese ed è una ricetta piuttosto antica anche questa che agisce sia sul Qi che sullo Yen di polmone. Dunque presenta una azione di promozione della secrezione dei liquidi organici e contemporaneamente tonifica l'energia del polmone. Questa ricetta ha molti farmaci a sua disposizione e tratta tosse cronica con espessorato scarso e difficile da eliminare, astenia, stanchezza e respiro astenico, qualche volta la sudorazione spontanea che compare in persone che abbiano avuto questi problemi come compare spesso nelle patologie, nelle convalescenze da patologie respiratorie, quindi bocca e gola secca, la lingua arrossata alla punta e per il resto pallida, il polso fine per il deficit dell'Uyin ma contemporaneamente in deficit per il deficit del Qi e rapido per la presenza del calore. Dunque questa patologia può comparire in corso di esiti di bronchite cronica, di TBC polmonare e anche in corso di aritmie cardiache, ma per quanto riguarda la nostra situazione è una ricetta che compare soprattutto quando ovviamente abbiamo questa situazione da appunto come dire convalescenza da patologie da covid. Abbiamo in questo caso la sinistra l'imperatore della ricetta che è il ginseng che tonifica e produce sia l'energia di mizza pancreas che di polmone che di cuore. Inoltre il ginseng favorisce la formazione dei liquidi organici ed esercita una certa azione ansiolitica. A destra e in alto troviamo Maimentung, la radice dell'opiopocon japonicus, che è un tonico dell'Uyin che promuove la secrezione dei liquidi e contemporaneamente purifica il calore, tratta la secchezza buccale, tratta la stipsi con feci secche, tratta l'irritabilità che è la conseguenza di patologie febbrili che consumano i liquidi e contemporaneamente nutre l'Uyin di stomaco e polmone calmando la tosse e umidificando l'intestino. E poi abbiamo il consigliere in basso a destra Wu Wei Zi, il fructus della schisandra sinensis, che è un tonico del Qi e dello Yin di polmone. Previene la perdita dei liquidi, la perdita del Qi del polmone e in questa maniera attraverso questi tre farmaci si ottiene appunto l'effetto definitivo di questa prescrizione che come ho detto è una prescrizione estremamente importante. Noi sappiamo che il ginseng ha effetto a livello cardiovascolare, ma non solo a livello cardiovascolare, ha effetto antiperlipemico, ha effetto a livello del sistema nervoso centrale, ha un effetto nootropico, ha effetto a livello del sistema endocrino, è uno dei farmaci più studiati della medicina tradizionale cinese. Ci sono oltre 9.000 studi pubblicati su PubMed e su ginseng. Ha effetto a livello del sistema riproduttivo, ha effetto antidiuretico, ha effetto immunostimolante ed effetto epatoprotettivo e antitumorale. Il ginseng possiede anche effetto antinfiammatorio. Mentre il mymentung, che vediamo in questa immagine, esercita effetto antibiotico nei confronti di numerosi ceppi batterici e inoltre ha anche un effetto inotropo positivo sul cuore, aumentando la sua agittata cardiaca. Da ultimo, WUIZ, il farmaco in basso a destra, che ha un effetto epatoprotettivo perché il principio attivo, la schisandrina, è in grado di incrementare in modo significativo la concentrazione del glutatione epatico e contemporaneamente ha un effetto a livello del sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso centrale stimola la vigilanza, migliora l'efficienza sul lavoro. Ha effetto antibiotico su vari ceppi batterici, tra cui il bacillum disenteriae, il bacillus antracis, lo pseudomonos serogenosa. A livello respiratorio ha un'azione stimolante diretta sui centri respiratori, mentre a livello cardiovascolare ha effetto cardiotonico e vasodilatatore. Ha effetto anche a livello del sistema riproduttivo e del sistema gastrointestinale, tant'è vero che è efficace nel trattamento dell'ulcera. Da ultimo ha un effetto immunostimolante, stimola l'immunità specifica. Bene, dunque, questa è la bibliografia che noi suggeriamo, il trattato di acopuntura e medicina cinese pubblicato dalla casa editrice ambrosiana ed in particolare il quinto volume di questo trattato che è inerente proprio come argomento alla farmacologia cinese. Questo trattato è stato pubblicato proprio per dare la possibilità a tutti i medici italiani di, come dire, approfondire questi argomenti. L'altro testo a cui faccio riferimento è Chinese Herbal Formulas and Applications pubblicato negli Stati Uniti a nome di John Chen e Tina Chen. Questo testo è un testo molto interessante a quale sono molto legato perché ho partecipato insieme a tantissimi altri colleghi in giro per il mondo a correggerne le bozze. Bene, con questo voglio concludere questa serie di video su questo argomento del contributo della medicina tradizionale cinese e in particolare della sua farmacologia al trattamento delle patologie da Covid-19. Abbiamo visto che si può intervenire nella prevenzione, si può intervenire nella terapia dei vari quadri sindromici, ma come abbiamo visto in questo ultimo video, si può intervenire anche nel trattamento dei sintomi che rimangono nei pazienti convalescenti da Covid-19. Questo è il motivo per cui la medicina tradizionale cinese può essere realmente utilizzata in sinergia con la medicina occidentale. Io sono sempre partito dall'idea che la medicina è una, quella migliore per il paziente e dunque in una situazione come quella attuale in cui purtroppo ancora non abbiamo a disposizione dei vaccini che ci permettano di liberarci da questa patologia, dobbiamo cercare le armi migliori sia occidentali che cinesi per tenere la patologia sotto controllo e contemporaneamente per permettere ai pazienti che eventualmente fossero attaccati da questa patologia di reagire nella migliore maniera possibile.